Supervisore 360 è il servizio gratuito pensato per professionisti, studi ed esperti che vogliono gestire da un unico pannello le caselle PEC Pro e Premium e il servizio di fatturazione elettronica dei loro clienti, garantendo un supporto di qualità. Supervisore 360 permette infatti ai possessori di questi servizi di delegarne la gestione a professionisti qualificati, impostando vari livelli di permessi per operare. Per attivare il servizio, accedi alla pagina PEC.it e scegli Registrati ora gratuitamente. Se non sei ancora registrato su Aruba.it, scegli Registrati e inserisci i dati richiesti per completare l'ordine. Se sei già cliente Aruba, inserisci lo username Aruba, la relativa password e vai su Accedi. Puoi registrare il servizio solo se sei un libero professionista, un'azienda, una ditta individuale o una pubblica amministrazione. Verifica con attenzione i dati che inserisci. Saranno riportati nel pannello Supervisore 360 e utilizzati per la gestione del servizio. Ora scegli lo username con cui accedere al pannello Supervisore 360. Il nome che scegli sarà visualizzato anche da chi ti fornirà la delega a gestire il suo servizio. Accetta le condizioni contrattuali e vai su Crea account Supervisore 360. Il servizio è attivo. Attendi l'email di conferma dal titolo il tuo account Supervisore 360 è attivo, dove troverai lo username che hai appena scelto. Ora crea una password. Il collegamento nell'email è valido per 7 ore. Ricorda che la password deve rispettare questi criteri. Salva e inizia a usare il pannello Supervisore 360. Accedi su supervisore360.aruba.it con le credenziali che hai appena creato. In home page è subito visibile il numero di utenti PEC o di fatturazione elettronica che ti hanno richiesto di usare in delega i loro servizi. Puoi inviare una nuova richiesta di delega o accettare quelle che ti arrivano dai menu deleghe. Consulta le videoguide dedicate per sapere come fare.